Buonasera a tutti dall'Ippodromo del Savio di Cesena. Iniziamo questa riunione con una corsa per gentlemen e insulti a cavalli di quattro anni. Sono in otto al via in questo premio Summer Trade Catering e Banketing. Andiamo a leggere lo schieramento con l'uno Asnavurferm, Filippo Gallo, due Anastasia De Rum, Elena Villani, tre Accanto De Beauty, Antonio Vitiello, quattro Spra Mareama, Ciro Ciccarelli, cinque Amanda Lir, mille Zanichelli, sei Aspirinetta Oil, Andrea Orlandi. Seconda fila, sette Arriva Mamma, Michela Rossi, otto Iron Mabel FM, Andrea Venezia. Problemi per Aspirinetta Oil, la vediamo ancora di galoppo sulla curva, quindi praticamente fuori corsa lo view di Andrea Orlandi. Rimangono in sette, partono piano i numeri bassi, veloce, il quattro di Aspramareama, prende il comando su Amanda Lir, poi vediamo il numero tre che sta cercando di convergere verso la corda accanto De Beauty davanti a Anastasia De Rum. Curva con in vantaggio Aspramareama, 200 metri in 14,4, poi alla fine desiste mille Zanichelli con Amanda Lir e retrocede quarto davanti a Snavurfer. Tanto ora rallenta un po' il ritmo Michela Rossi dopo lo strappo iniziale, arriva ai 400 in 31. Sempre davanti accanto De Beauty mentre sposta all'esterno Elena Villani con Anastasia De Rum. Terza posizione ora quindi per Amanda Lir. Paletto dei 600 metri in 46,4, 16,3 la curva, siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio. Ciro Ciccarelli scusate con Aspramareama, davanti al 3 di accanto De Beauty, poi il 2 di Anastasia De Rum. Terza posizione per Mile Zanichelli con Amanda Lir, poi Michela Rossi è quarta con Arriva Mama. Siamo sulla curva, arriviamo al chilometro con Aspramareama che lo passa in 1,15,4. Sempre in vantaggio Ciro Ciccarelli con la fila di Pascia all'est, seconda posizione alla corda per Accanto De Beauty mentre a largo è Anastasia De Rum con Elena Villani. Ormai si sono staccati questi tre retta di là, passate in 14,2. Sempre in vantaggio Aspramareama con Accanto De Beauty e Anastasia De Rum alle prese. Siamo a 250 metri dalla conclusione, Aspramareama vantaggio importante. Ultima curva passata in 15, retta d'arrivo, Aspramareama e Ciro Ciccarelli tentano la fuga. La lotta ormai ci sembra solo per il secondo posto ed è Aspramareama che viene a vincere mentre ancora secondo è Antonio Vittiello con Accanto De Beauty al terzo arriva, arriva Mamma con Michela Rossi. Quindi 1,14,4 la media al chilometro per Aspramareama, il portacolori dell'azienda agricola Arnuova. Il trend di Salvatore Valentino, la guida da catch da Ciro Ciccarelli. La quota in chiusura da favorito di 2,00, secondo posto per Accanto De Beauty mentre finisce forte all'interno, arriva Mamma. Grazie. Grazie a tutti.